Benvenuti sul mio canale. In questo video, vi parlerò della morte di uno dei personaggi più amati di Terra Amara. Si tratta di una morte sconvolgente che lascerà tutti a bocca aperta. Prima di procedere, vorrei invitarvi come sempre a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere le prossime anticipazioni. Ma ora, torniamo alla storia. Ilmaz è al lavoro quando riceve una chiamata urgente da Nazire che lo avvisa della preoccupazione per il figlio, poiché Mugeigan l'ha preso con sé ed è fuggita. Senza esitazione, Ilmaz esce dall'ufficio e corre verso la macchina, partendo a tutta velocità. Intanto, Demir e Zuleya stanno andando al tribunale per il loro divorzio e vedono la macchina di Ilmaz sfrecciare davanti a loro. Capiscono immediatamente che qualcosa di grave è successo. Poco dopo, Ilmaz perde il controllo dell'auto a causa dell'eccessiva velocità e finisce in un piccolo burrone. Demir e Zuleya, presi dal panico, si fermano immediatamente e corrono ad aiutarlo. Zuleya grida il suo nome mentre cercano di tirarlo fuori dall'auto, mettendo a rischio la propria vita. Tuttavia, Demir si rende conto che la gamba di Ilmaz è incastrata e la situazione è molto grave. Ma Demir non si dà per vinto e cerca il modo di farlo uscire. Nel frattempo altre persone che passavano di lì si sono fermate e sono scese in soccorso. Ma ad un certo punto qualcuno dei presenti, nota che il serbatoio della macchina sta perdendo benzina. Così inizia ad urlare a Demir di allontanarsi dal veicolo immediatamente, perché l'auto potrebbe esplodere. Nonostante le urla, Demir continua in tutti i modi a tirarlo fuori, chiedendo aiuto. Ma gli altri visto il pericolo decidono di non avvicinarsi e se ne vanno. Demir dice a Zuleya di andarsene. Ma lei rifiuta categoricamente. E cerca in qualche modo di aiutare Demir. Ad un certo punto, Demir riesce ad aprire la portiera, e insieme a Zuleya riescono a tirarlo fuori dall'auto. Finalmente riescono ad allontanarsi, mentre l'auto dietro di loro esplode. I due portano con urgenza Ilmaz all'ospedale, dove viene operato d'urgenza. Anche Fekeli arriva in ospedale, e Demir gli rivela che Ilmaz è in pessime condizioni. Arrivata sera, Gulten è vicino a Zuleya, e cerca di dargli sostegno, ma Zuleya è veramente distrutta. Subito dopo anche Mugeigan arriva all'ospedale, domandando a Fekeli, quali sono le condizioni di Ilmaz. In ospedale d'un tratto arrivano anche alcune persone, che avevano visto l'incidente per sapere come stava il ragazzo, e dicono a Fekeli che Demir ha fatto qualsiasi cosa per tirarlo fuori dall'auto, nonostante stesse per saltare in aria, mettendo a rischio la sua stessa vita. Dopo un paio di ore Ilmaz si sveglia. La prima cosa che fa Ilmaz, è chiedere a Fekeli come stesse il suo figlioletto, e gli dice anche, che l'incidente è successo a causa dell'alta velocità, ed è stata la telefonata da parte di Nazire, in cui gli diceva di essere molto in pensiero per la salute del bambino, perché Mugeigan era scappata con lui. Per non farlo agitare, gli dicono che il bambino è in perfetta salute e fuori da ogni pericolo. Ilmaz a questo punto vorrebbe vedere i suoi figli, così Demir va alla fattoria a prendere Adnan, mentre Cetin va a prendere Keren. In ospedale Zuleya dice a Fekeli, che Ilmaz, ha intenzione di costruire una casa, così da poter vivere insieme alla sua famiglia, e che molto presto finalmente potranno essere felici. Durante la conversazione arriva Mugeigan, e Zuleya e Fekeli, escono dalla stanza per lasciarli un po', da soli. Ilmaz, chiede a Mugeigan come sta il bambino, e lei gli risponde, che è caduto, ma che sta bene e che ha dovuto fare i dovuti controlli in ospedale, ed era per quello che era corsa via. A questo punto Mugeigan si scusa per avergli fatto vivere una vita infelice, ma Ilmaz a sua volta si scusa con lei per aver fatto lo stesso. Poco dopo, arriva Demir con il piccolo Adnan e Zuleya, lo prende e lo porta nella stanza da Ilmaz, per far sì che veda suo padre. Demir va via sconsolato e triste per tutta la situazione. Fekeli vede Demir triste che se ne sta andando e lo ferma. Lo vuole ringraziare per il bellissimo gesto, molto coraggioso che ha effettuato. Poco dopo arriva anche Mugeigan con il piccolo Keren, e quando Ilmaz lo vede è davvero felice, perché ha entrambi i suoi figli lì con lui. Qui Ilmaz, Fa un commento a Zuleya sulla situazione, dicendo che c'era bisogno di un incidente per essere felice. Demir entra nella stanza per assicurarsi delle condizioni di Ilmaz e per vederlo. Dopodice Ilmaz, gli chiede di sedersi accanto a lui, per dirgli che si ricorda ogni dettaglio nei particolari, e lo ringrazia per averlo tirato fuori e per avergli salvato la vita. Demir gli dice che non deve ringraziarlo, inoltre anche lui si scusa con Ilmaz per tutto ciò che gli ha fatto, ma Demir, non immagina che sta per dirgli di prendersi cura dei suoi figli e di Zuleya, nel caso non ce la facesse. Tutto ciò perché Ilmaz, sa che Demir non è più la brutta persona che era prima, e la stessa cosa vale dalla parte opposta. I due più grandi rivali della serie, sono arrivati al punto, di darsi fiducia e soprattutto tanto rispetto. Una pace insomma, che i due aspettavano da tanto tempo. Ilmaz dice a Zuleya, di andare a riposare, ma Zuleya, non ha intenzione di muoversi da lì, e vuole stargli vicino. Nel frattempo Fekeli, entra nella stanza per dire a Ilmaz, che fuori, sono venute un sacco di persone a trovarlo, e che stanno organizzando una grande festa per quando tornerà a casa. Ilmaz dice a Fekeli, di prendersi cura di Mugeigan e il suo piccolino, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Sicuramente dentro si sente qualche cosa, probabilmente sta vivendo una strana sensazione che solo chi si trova in quelle condizioni può davvero capire. In serata Zuleya rientra nella stanza, e gli parla del loro futuro insieme, sognando ad occhi aperti, con l'amore della sua vita. Ma ad un certo punto, Ilmaz dice a Zuleya, di prendersi cura del loro bambino. Zuleya, è molto preoccupata e Ilmaz le dice di aver parlato già con Demir, nel caso gli fosse successo qualcosa. Zuleya vede che Ilmaz è sempre più pallido, e lui con poca voce gli dice che è stato il suo unico grande amore. Il cuore di Ilmaz si è fermato, e Zuleya inizia ad urlare chiedendo aiuto. I suoi tentativi di rianimarlo, risultano inutili. Ilmaz, se n'è andato per sempre. Il video finisce qua. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva le notifiche. A presto. Grazie.